Volete vedere un tasto rapido per aumentare la dimensione dello schermo del vostro browser? CTRL, maiuscolo, B. Vedete? Tenendo premuti in contemporanea il tasto CTRL in basso a sinistra, il tasto SHIFT, ovvero il maiuscolo, proprio sopra, e il tasto della lettera B, possiamo far apparire o scomparire la nostra barra dei preferiti, compresi anche gli altri preferiti. Vedremo più avanti anche come gestirli. Quindi, tenendo premuto CTRL maiuscolo B, vedete, posso far scomparire e riapparire la barra dei preferiti. Teniamocelo a mente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!